Ciao a tutti ragazzi, sono Master Wallace, carico, 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 come sempre. Mi raccomando, iscrizione al canale immediata per la vera informazione. Allora, vi dico subito che questo argomento qui non tratterà di culturismo, ma di resurrezione dei morti. Quindi è un argomento che ovviamente chi non è interessato, sapete che ogni tanto affronto queste cose, dopo innumerevoli video tecnici, ogni tanto faccio anche queste cose, e tra l'altro mi è stato anche chiesto. Quindi l'argomento di oggi è questo, i morti potranno risolgere scientificamente? Questo è l'argomento. È molto complesso, è molto complicato, l'avevo già trattato nei video di resurrezione tecnologica, qui lo affronterò andando ancora un po' più nel dettaglio con altre informazioni che ho letto e quindi è un argomento, ripeto, complesso, lungo. Quindi chi si aspettava un video di culturismo o di bildico, questa volta non c'è, quindi fate voi. Però credo che questo argomento qui, credo che possa interessare tutti, credo o no. Se ci riflettete un attimo, credo che possa interessare tutti. Allora, la mia non è una visione religiosa, non credo nell'anima, per me non esiste nessun'anima, non c'è nulla oltre il corpo e la mente, quindi non per questo però non credo, l'oggetto varie volte, a mio modo sono religioso, perché credo in una risurrezione futura, quindi già questo è un credere, no? Però questo è un credere basato su fatti scientifici, sulla scienza, ok? Non è un credere così a priori qualcosa che di unipotente farà queste cose, sono cose che scientificamente potrà fare l'uomo e soprattutto le macchine, i computer, potranno fare questa cosa, perché è scientificamente fattibile, è questo il punto. Allora, andiamo con camera, vi ripeto che è un argomento molto molto complesso, dunque, certe idee che io avevo sulla risurrezione, che avevo, vi dico la verità, le avevo fin da ragazzo, mi chiedevo, da ragazzo avevo questa idea così, forse un po' ingenua, ma, però mi chiedevo, dunque, una persona è morta, quindi il suo corpo si decompone, ma perché un domani questa cosa non potrebbe essere ricomposta? Avevo questa idea che mi sembrava anche logica, cioè se una cosa c'era, che era formata con strutture, con secondo leggi della fisica, io, allora, proprio per un pensiero intuitivo non entravo in questi concetti, ma dicevo, perché non potrebbe essere ricostruita, ok? E, guardate che questa cosa qui, dalla scienza, è molto trascurata, ma è una possibilità davvero concreta, quantomeno per adesso teorica, ma concreta, non basata su nulla, sulle chiacchiere, ma non perché lo dico io, perché da un certo tempo a questa parte molti scienziati fisici stanno esplorando questo campo, guardate che già negli anni, decenni fa, c'era uno scrittore di fantascienza, Isaac Asimov, non so se molti di voi l'hanno sentito nominare, che è veramente un uomo di un'intelligenza mostruosa, e di una cultura immensa, e aveva già fatto storie di questo tenore qua, cioè di risurrezione, basata proprio sulla scienza. Poi sono arrivati vari scienziati che hanno cominciato a fare teorie in questo senso, potrei citare appunto, fra i tanti, il primo che veramente ha fatto un libro in questo senso, che è Frank Tipler, che fece il famoso libro di Sulla Fisica dell'Immortalità, poi altri fisici l'hanno seguito, potrei citare David Deutch, con il suo libro La trama della realtà, dove citando Tipler dice, sì l'idea di Tipler e della risurrezione fa una buona idea, però si potrebbe fare anche in altri modi più semplici, e lui addirittura va citando altri modi per fare questa cosa, della risurrezione dei morti. Ora, alla base di tutto questo, dovete capire il concetto, c'è una scienza molto particolare che deriva dalla filosofia transumanista, che si chiama l'archeologia quantistica, se coniate questi due termini insieme, li analizzate, l'archeologia fa pensare a qualcosa del passato, la ricerca di indizi che ci portano a ricostruire il passato, l'archeologia è così che funziona, ricostruire la storia del passato su indizi, e se ci mettete l'archeologia quantistica, avete già capito, cioè la fisica quantistica può di fatto a livello teorico ricostruire, ricostruire nei minimi dettagli tutto quello che è esistito, tutto lo può fare, e una volta che questa cosa sarà possibile, adesso ci addentreremo su come si possa fare, è chiaro che chiunque sia vissuto, questo poi vale anche per qualsiasi forma animale, anche batteri, cioè per qualsiasi cosa che è esistita, ma stiamo nelle forme viventi, qualsiasi uomo che sia esistito, può essere riprodotto, poniamo anche nel momento della sua morte, anche a livello di ricordi, si può fare, e semplicemente usando, perché qui poi l'obiezione che molti fanno è questa, ma come possiamo recuperare gli atomi di una persona che è morta, per dire, faccio per dire, un ominide che è morto un milione di anni fa, i suoi atomi sono dispersi nell'universo, come possiamo recuperarli e ricostruirlo? È impossibile, ecco vedete, è qui l'errore concettuale, non si tratta di recuperare quegli atomi, si tratta di ricostruire quella configurazione usando gli atomi stessi che sono tutti uguali, cioè gli atomi di carbonio, faccio per dire, di cui noi siamo fatti, gli atomi di carbonio sono tutti uguali, cioè fra due atomi di carbonio, non c'è nessun modo nemmeno teorico di distinguere la differenza, chiaro? Quindi non c'è bisogno di andare a recuperare quegli atomi dispersi nell'universo, si tratta di ricostruire la configurazione esatta di quella persona usando il materiale che c'è già e che è sempre quello, atomi di carbonio eccetera eccetera, poi dopo la struttura verrà fatta più complessa. E una volta che avremmo fatto, diciamo come dire, l'ologramma della sua mente, della sua memoria, ricordi di tutto, questa cosa verrà implementata in un corpo, ripeto, costruito con tecnologie avanzatissime, diciamo pure un corpo robotico se vogliamo, ma strutturamento umano simile, del tutto uguale, dove verrà impiantata questa memoria e praticamente quest'uomo si trova lì risorto, di fatto, di corpo, di mente. Quindi questo è quello che si potrebbe fare con la creologia quantistica. Non è un problema di ricostruire il corpo in sé, i materiali sono sempre quelli, e anche di come era il corpo. Il problema è di come avere la configurazione di questo corpo, e questo è il grande problema. Bisognerebbe fare, servirebbe una potenza di calcolo, talmente immensa, che chiunque direbbe, lo stato attuale, non è possibile. E invece con i computer quantistici sarà possibile. e specialmente, dunque, quando i computer quantistici, vedete, i computer quantistici avranno una potenza che in questo momento non è nemmeno inimmaginabile, cioè potranno fare dei calcoli a livelli quasi infiniti, e quindi guardate che anche ricostruire, anche ricostruire una persona che è vissuta migliaia di anni fa, migliaia di anni fa, guardate che con la potenza di calcolo di quei computer lì sarà una cosa irrilevante, cioè veramente, verranno usate dei nuovi tipi di matematica simbolica, con delle astrazioni, dove tutte le striglie cosmiche che ci sono, l'universo è fatto tutto da, è connesso in tutto, anche un evento che è passato, le informazioni non muoiono mai, mi sono segnato qui il nome di uno scienziato, Leonard Susskind, scritto così, penso che sia russo, credo, è uno dei maggiori scienziati fisici, tra l'altro anche della fisica teorica, della teoria delle stringhe, quindi uno che veramente era solamente molto, molto avanti, e lui una sua frase famosa è questa, ha detto, l'informazione non può essere distrutta, mai, questa è la sola cosa che conosco della fisica, ci sono detto, un'informazione sarà sempre presente nell'universo, non può essere distrutta, questa è la base della fisica, allora, in tutte queste, scusate, griglie cosmiche, ho detto un'altra cosa, queste griglie cosmiche infinite dell'universo, che sono tutte collegate, con trilioni e trilioni di griglie, in realtà, da una si può andare a tutte le altre, viceversa, anche indietro nel tempo, l'importante è avere un qualcosa da cui partire, poi con dei calcoli quantistici, con un uso di una matematica simbolica, iperbolica, di astrazioni molto complessa, che per adesso è solo agli inizi, sarà possibile ricostruire tutte le variabili, fino ad arrivare a quella più probabile, statisticamente esatta, della ricostruzione di un fatto, o di una persona, voi dite, ma vabbè che razza di cose sono queste qua, ma non ci capisco niente, è così complicato, è complicato se pensate a quello che richiede, questo tipo di calcoli, ma in sé è abbastanza semplice, allora, voglio semplificarvi le cose, sempre col famoso esempio, perché questo non c'è niente di più esatto, di questo esempio, che possa farvi capire la situazione, noi abbiamo, se noi abbiamo una struttura, o tante piccole strutture fatte ad incastri, con dei mattoncini Lego, per quanto complesse siano, hanno una struttura, che è anche quantificabile, anche dal punto di vista matematico, quella è, se questa struttura viene disintegrata, come ad esempio di un corpo che è decomposto, quindi tutti gli atomi di questa struttura, fatta di mattoncini Lego, è disintegrata, rimarranno solo gli atomi, e qualcuno dice, ecco il problema che vi dicevo prima, ma come potremmo recuperare questi atomi dispersi, e rifare la struttura, ecco non c'è bisogno di recuperare quei mattoncini Lego, ne useremo degli altri, perché ci sono disponibili, ma dobbiamo sapere come riassemblarli, e rifare la struttura, e questo è il grande problema, è chiaro, ma partendo da un minimo dato, che abbiamo di quella struttura, che comunque è rimasta nella traccia come informazione, a ritroso possiamo ricostruire tutto, con queste matematiche ultra complesse, ma che semplificano anche molto la situazione, con la potenza quasi infinita, dei computer quantistici, e guardate che veramente, sarà una cosa irrilevante, guardate che poi i computer quantistici, opereranno a livelli infinitesimali, cioè per dire dentro un atom, un atom potremmo avere trilioni e trilioni, di piccole macchine quantistiche, che lavorano, e fanno dei calcoli pazzeschi, capite come la situazione, non è come adesso, che abbiamo i computer, anche i più sofisticati, che fanno calcoli incredibili, ma molto limitati, computer quantistico, lavoro su realtà parallele, quindi qualsiasi calcolo, lo può fare, ok? tranne diciamo il calcolo infinito, ma siccome un uomo, nella sua struttura, o l'universo, è sempre un calcolo finito, per quanto immenso, questo si potrà fare, cioè capite allora come, come davvero, cioè qui c'è una rivoluzione, nel senso che, è possibile fare questo, è possibile, guardate c'era un matematico del passato, Cantor, che è uno che ha eviato poi tante teorie nella matematica, purtroppo è anche impazzito, finito in manicomio, forse la sua mente era talmente immersa in queste cose, che alla fine ha perso anche il senno, e quindi lui stesso è arrivato a delle conclusioni, già molto tempo fa, che la matematica contiene dei livelli transfiniti, livelli alfa, proprio fuori dalla nostra portata, ma che ci sono, e per accedere a quei livelli lì, ci vuole un qualcosa che l'uomo non è in grado di fare, e lo faranno i computer quantistici, e quindi ricostruendo, ripeto, tutta la struttura delle griglie cosmiche, da dove siamo adesso, o dove saremo, fino al passato, si potrà ricostruire tutto, è come andare veramente a, è come se avete sul tavolo una immensa quantità di puzzle, e magari per tentativi, potete provare a ricostruire sta figura, ma se avete già delle tracce, calcolate, che vi dicono, questo pezzo va qui, questo qui, questo lì, si fa, e questo è quello che farà i computer quantistici, poi il materiale, ci sono, sono gli atomi che esistono già, faccio per dire, adesso ci sono delle macchine, che stampano in 3D, stampano in 3D, sono degli ologrammi, però dopo gli ologrammi in 3D, vengono trasmessi, in delle macchine, che veramente ti fanno l'oggetto, con vari materiali, te lo riproducono, è lo stesso principio, anche un corpo umano, può essere riprodotto, con queste tecnologie qui, super avanzate, proprio a livello biologico, si faranno l'ologrammi in 3D, di questo essere umano, e verrà riprodotto, poi verrà impiantata lì, è qui che ci sono, i calcoli immensi, dei computer quantistici, sarà immessa lì la memoria di questo uomo, guardate che anche tutti i ricordi, della mente di un uomo, da bambino fino alla sua morte, tutti quei ricordi lì, sono quantificabili, sono neuroni connessi, che hanno dei passaggi, è tutto quantificabile, quello che spaventa attualmente, è che questi calcoli qua, sono fuori dalla portata, qualcuno dice impossibile fare questi calcoli qui, sì, al momento sì, ma poi non lo sarà, perché è inevitabile, che questo avverrà come espansione della conoscenza, ripeto, ma tanti scienziati hanno già esplorato questa cosa, se la scienza si interessasse di più a questi settori qui, magari anche investendo tanti soldi, c'è qualcuno che lo fa, ci sono dei filantropi russi, che stanno facendo queste ricerche, anche Elon Musk è interessato a queste tematiche, ma se si investissero tanti soldi in questa cosa qua, si potrebbe accelerare al massimo, lo sviluppo dei computer e della ricerca, e questa cosa sarebbe sempre più fattibile, ma comunque avverrà, è inevitabile, perché con l'avvento dei computer quantistici, come potenza di calcolo, si potrà fare praticamente tutto, e questo veramente che farà la differenza, allora dopo qui solgono anche delle questioni, comunque se vi interessa, io vi metterò, vi metterò sotto un link, dove trattano questi argomenti, nel dettaglio, cioè il link è di un sito straniero, ma poi c'è la traduzione, si capisce bene tutto quello che dicono, e tutto quello che è scritto lì, io queste cose, non nel dettaglio tecnico scientifico, ma le avevo già pensate, ripeto, quando ero ragazzo, dico, una cosa se c'è, si può ricostruire, basta avere il sistema per farlo, l'informazione, e leggendo queste cose ho detto, ma è esattamente quello che ho sempre pensato, che poi ho anche detto nel video, risurrezione tecnologica, però imbattendomi in queste cose qui, che non avevo ancora visto, è esattamente il mio pensiero, è sempre stato questo, cioè una risurrezione scientifica, non così, come dire, immateriale, basata su tutta una storia, dell'uomo, di Gesù, il Dio, il Paradiso Terrestre, il Diavolo, Satana, il Peccato, il Verete Redenti, queste cose qua, ovviamente ognuno è libero di credici, si tratta di fede, ma se ci pensate bene, non è che, io personalmente queste cose, non le considero che siano anche molto sensate, obiettivamente, la cosa messa in questi sensi qua, in questo senso qua, non ha molto senso, proprio in generale, per me è anche inaccettabile, una cosa del genere, però adesso non voglio entrare in queste tematiche qua, perché il Paradiso Terrestre, adesso faccio un'altra digressione, e qui pongo una domanda magari a chi, a chi crede in queste cose, chi è interessato, il Paradiso Terrestre, guardate, a parte tutte le contraddizioni enormi che ci sono, ma lasciamo stare, le ne dico proprio una molto semplice, che così, mi è venuto in mente, quando ho posto questo dubbio, a persone che hanno certi tipi di fede, non avevano risposta, cioè hanno detto, non lo sappiamo, comunque noi dobbiamo credere, in Dio, alla Ressurrezione, perché alcune fedi prendono per reale, il fatto che c'era il Paradiso Terrestre, no? Con Adam ed Eva, giusto? E che lì c'era anche il mondo animale, nel Paradiso Terrestre c'era anche il mondo animale, in tante raffigurazioni il Paradiso Terrestre, quando verrà restaurato, o come era prima, si vedeva appunto, Adam ed Eva, che vicino a loro c'è il leone, c'è l'agnello, in pace, no? Perché si presuppone che, dovrebbe essere così, nel Paradiso Terrestre, dice anche la Bibbia, le creature, quando Dio creò gli animali, prima dell'uomo, creò creature che si nutrirono solamente di vegetali, cioè, nel Paradiso Terrestre, gli animali non erano canniboli, non si sbranavano uno con l'altro, perché era il Paradiso Terrestre, non c'era l'assassinio, neanche per mangiare, non succedeva nulla, nessuno succedeva, né fra uomini, né fra animali, a parte che c'erano solo Adam ed Eva, quindi gli animali in teoria erano tutti erbivoli in Paradiso, questo è un dato di fatto che non si scappa, e questo è questo che viene detto, sì, perché lì era tutto perfetto, gli animali non si sbranavano nemmeno, già qui ci sarebbe da dire, che animali erano, nel senso che, cioè, un leone con le zanne lunghe così, che era il vivoro, ma non è questo il punto, è un altro, siccome la vive dice che Dio creò prima gli animali, poi l'uomo, non si scappa, cioè il Paradiso terrestre quando Adam ed Eva c'era, ma prima sono stati creati, prima la vegetazione, e dopo gli animali, tutti, perché loro poi non credono neanche all'evoluzione degli animali, lo dicono, l'evoluzione non c'è, quegli animali, quelli erano, gli uomini, questi sono, non c'è stata nessuna evoluzione, per cui secondo loro, all'epoca, il leone esisteva già come c'è adesso, e era tutto immutato, già anche qui, se ci riferite bene, comunque, io quello che ho trovato, e che per loro è insormontabile, come spunto tecnico, teologico, che non è risolvibile, sono i dinosauri, i dinosauri sono vissuti per milioni, milioni di anni, ok, prima della nascita dell'uomo, questo è un dato di fatto, comunque, essendo animali, anche secondo la Bibbia, per forza di cose, dovevano essere vissuti prima dell'uomo, non si scappa, uno dice, vabbè, e quindi, cosa c'è di strano? Niente, solo che i dinosauri, nella stragrande maggioranza, erano carnivori, si sbrnavano fra di loro, non sto a citare il tirannosauro, con una bocca grande, come una stanza, e denti lunghi un metro, che erano dei carnivori, come tanti altri animali più piccoli, ma tutti carnivori, con bocche enorme, e denti incredibili, che si sbrnavano fra loro, sono stati trovati anche, nei fossili, dentro gli stomaci di carnivori, tracci di altri animali, perché si sbrnavano fra loro, c'erano anche gli erbivori, avete presente quelli, per esempio, quegli animali enormi, con quel collo lungo lungo lungo, no? Erano erbivori, avevano tutta un'altra dentatura, proprio fatta per triturare, quindi è fuori dubbio, che ai tempi dei dinosauri, c'erano animali carnivori, e non pochi, tanti, se gli animali sono stati creati da Dio, prima dell'uomo, e comunque erano nel paradiso terrestre, e non doveva esistere, il fatto che si sbrnavano fra loro, i dinosauri si sbrnavano fra loro, la domanda è, come mai, anche prima della nascita dell'uomo, e comunque nel paradiso terrestre stesso, quando poi, dopo è apparso l'uomo, madame d'Eva, gli animali si sbrnavano, questa è la domanda, e qui non mi ha risposto nessuno, perché, questa cosa non lo sappiamo, qualcuno ha detto, ma forse sì, i dinosauri si sbrnavano, però, e vabbè, però, è in contraddizione con quello che dice Abib, gli animali si nutrivano solo di erba, non si sbrnavano fra loro, il paradiso terrestre era perfetto, non c'era la morte di nessuno, né uomo né animale, ma i dinosauri si sbrnavano fra loro, e sono vissuti milioni di anni prima dell'uomo, questo dato è innegabile, perché i dinosauri siano esistiti, a meno che non si voglia negare che non siano esistiti, allora, vabbè, dopo che andiamo come quelli che negano che la Terra è piatta, che la Terra è tonda, c'è qualcuno che dice che la Terra non è tonda, è piatta, c'è una cupola, tutto il resto che ci dimostra che sia tonda, è tutto falso, è tutto un complotto, ci sono milioni di persone d'accordo fra loro, per mentire su tutto, gli astronauti, quelli che guardano i telescopi, è tutto finto, è un complotto, quindi, se volete credere così, vabbè, allora, non ci siamo a perdere. No, ma ho fatto questa digressione per dirvi che, appunto, io non sono religiose, non credo in questo senso proprio letterale, biblico, alla Ressurrezione, però a mio modo lo sono, perché credo nella Ressurrezione a livello scientifico, e vi ho spiegato che con l'archeologia quantistica, di cui vi metto sotto un link, potete leggere, guardate che queste cose sono illuminanti, perché danno una speranza, ma una speranza reale, danno una speranza reale, e quello che adesso ci sembra impossibile, non lo sarà, che già a livello teorico, si può dimostrare che è possibile, ma secondo voi, ai tempi del Medioevo, oppure torniamo ai tempi degli Ominidi, certe cose che accadono oggi, erano immaginabili? Pensateci, ma addirittura, dai tempi degli Ominidi fino adesso, il progresso ha avuto un'evoluzione abbastanza lenta, dopodiché, nella nostra era Modena, il progresso ha un'accelerazione, molto più accelerata, molto più accelerata, ok? E questa accelerazione sta continuando, per cui, non serviranno più, migliaia e migliaia di anni, per fare un progresso tecnologico limitato, adesso in molto meno tempo, si faranno progressi tecnologici di conoscenza, molto più accelerati, e più immensi, perché è così? Quindi, come vedete, sono tematiche abbastanza dopo, chiaramente ci sono anche tematiche del tipo, ho capito, ma poi uno, se uno non volesse essere risorto, e si ritrova di nuovo, invece risorto in una situazione, magari, con la memoria, so che era morto poco prima, dice, ma io, c'è l'ultimo ricordo che ho, che, ero su un letto all'ospedale, stavo morendo, come mai adesso sono qui, mi sento bene, magari aveva anche un corpo più giovane, che cosa è successo? Sarebbe anche stravolto, sono cose da affrontare, però anche queste risolvibili, cioè probabilmente, si potrà fare un approccio graduale, per far capire alla persona quello che sta succedendo, magari cancellando anche il ricordo stesso della morte, temporaneamente, per poi fargli capire dopo la situazione, e poi questo ricordo verrà riemesso, queste sono le mie idee, no? Però è tutto fattibile, cioè è importante che, che si arriva a questa cosa qua, e poi lo dirà, qualcuno dice, ma poi dove staremo? La Terra non basterà per tutti, ma ragazzi, c'è l'universo a disposizione, c'è l'universo a disposizione, non, quindi ci potrebbero anche essere, delle realtà virtuali, dove, all'interno di un atimo, c'è una realtà virtuale immensa, di un universo, uno potrebbe avere anche, un suo universo personale, per ogni essere umano, o anche per ogni animale, anche ogni lucerto, la potrebbe avere il suo universo personale, ovviamente loro non si renderebbero conto di questo, ma anche gli animali saranno prodotti, perché no? Anche magari i nostri amati animali, che non ci sono più, però loro non se ne renderebbero conto, perché l'animale non ha la coscienza di se stesso, cioè ce l'ha, ma non come l'umano, che è retroattiva, è cosciente di esistere, l'animale ha questa coscienza di esistere, ma non è profonda, percettiva, come quella dell'essere umano, è questo che fa veramente la differenza, anche se poi ci sono delle sfumature, perché per esempio si è visto che nei primati, nelle scimmie, c'è veramente un barlume anche proprio di questa autocoscienza, però le scimmie, essendo anche veramente molto molto vicine a noi, proprio per il discorso evolutivo, anche se poi molti lo negano, vabbè, non lasciamo perdere, e quindi, però l'essere umano davvero ha questa percezione, di tutto particolare, per cui bisognerà anche gestire questa cosa, così come magari, anche quelli che non sono mai nati, non so, i feti abortiti, che facciamo, come possono concepire che sono stati risorti, beh, si farà anche questo, cioè, tutto potrà essere fatto, perché, quando si arriverà a quel punto lì, di conoscenza immensa, tutti i problemi saranno risolti, vedete, adesso io concludo dicendo, adesso c'è questa cosa della chat GPT4, no, che, si pensa che ruberà il lavoro alla gente, questo è vero, questo è vero, ruberà il lavoro a tanta gente, come già sta avvenendo, che Facebook, anche Apple, cioè, tante di queste immense multinazionali, hanno licenziato migliaia di persone, perché il loro lavoro adesso lo farà la macchina, il computer, e sarà sempre, sarà così in tutto, quindi, non è una bella prospettiva, molti dicono che sarà una risorsa, sì, sarà una risorsa, ma sarà anche un grosso problema, è un po' come l'energia atomica, può essere usata per distruggere, come è stato avvenuto per Hiroshima e Nagasaki, ma può essere usata per dare energia al mondo, può essere usata per delle macchine, che fanno analisi nel corpo, per trovare tumori, è come il bisturi del chirurgo, se è usato male, vi taglia la gola, vi decide la carodite, morite di sanguati, ma se la usa nel punto giusto che vi apre, per operarvi, vi salverà la vita, non c'è niente che sia tutto dannoso, tutto benefico, dipende dall'uso che se ne fa, e la GPT ha un potenziato talmente enorme, che non è ancora poi computer quantistico, e pensate a quei computer quantistici, che quando potranno risolvere qualsiasi cosa, qualsiasi problema, gli ponete, lui vi darà la risposta, a un certo punto, chi sarà utile in un mondo del genere, però se lo sapremo gestire, potremo noi gestire loro, per fare la nostra risoluzione, e quindi dicevo, la chat GP4, è un esempio di come già, una macchina, possa andare più avanti di noi, con, perché ha una potenza di calcolo enorme, per adesso loro lavorano solamente, sui dati che hanno, non hanno una coscienza, cioè io vi dico una cosa, se parlo con, adesso ci vanno di moda queste figure, che sono umane, o comunque parlano, comunque dietro c'è la chat GP4, ma parlando con queste figure qui, si capisce benissimo che, è un computer, perché alla fine non è in grado, di fare un discorso veramente umano, certe cose, quando non sa cosa dire, ripete certi concetti, ma si capisce che è falso, io perlomeno ho questa impressione qua, ragazzi io devo concludere, perché qua gli argomenti sono veramente enormi, troppo, però spero di avervi dato qualche idea, vi metto questo link sotto, datici un'occhiata, secondo me vi apre la speranza, a me apre la speranza, già quando ho lesso il libro di Frank Tipler, per me era una grande speranza, e tutto questo lo è, molto più, molto più delle letture bibliche, che comunque sono una fonte di saggezza immensa, ma perché alla fine il concetto è quello, vi promettono un qualcosa che avverrà, perché è possibile che ci sia, se voi lo concepite da un punto di vista scientifico, che è veramente teoricamente possibile, la speranza fosse ancora più forte, tutto qui il discorso, vi ringrazio, e vi aspetto domani per un nuovo video di e-book building, riprenderemo quelle tematiche lì, queste qui magari ogni tanto le affronteremo, però intanto io vi ho buttato un input di riflessione, che è molto importante, ok? Grazie a tutti, a troppo.